Il mio comunicato è stato frainteso da molti, ha detto la consigliera fanese Carla Luzzi, che ha voluto replicare alle polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni. Non intendevo dire che non volevo il carnevale o altre manifestazioni importanti, ma semplicemente che servono idee nuove che possano valorizzare soprattutto il carnevale invernale. Io non sono contraria ai momenti di festa, ha precisato, ma c'è modo e modo di organizzarli. Quello che scrive stamattina Santorelli, Cucuzza, Guzzi non mi trova concorde perché è un po' un interpretare le mie parole. Io non intendevo assolutamente dire queste cose. Credo nel carnevale perché il carnevale è parte di Fano, ma per rinascere e per avere quello splendore che aveva anni fa ha bisogno in qualche modo di essere ripensato e non può essere ripensato nell'estate, ma può essere ripensato nel suo periodo che è l'inverno, che è il periodo del carnevale. Questo ha proseguito e soltanto un mio pensiero su come poter recuperare lo spirito del carnevale. Quando facevo riferimento a Dario Fo, facevo riferimento a un periodo, voglio dire, pieno di luce del carnevale, non perché rivolgo Dario Fo in questo carnevale, ma perché voglio una figura che sia comunque autorevole, che in qualche modo possa dare anche un nuovo lustro. Sulla Fano dei Cesari invece Luzzi ha confessato di non averla mai amata, viste le criticità che secondo lei nascono durante la manifestazione, dal grande consumo di alcol al tanto denaro speso all'inquinamento acustico ed ambientale, ma anche alla corsa delle biche che comportava ricoprire tutto l'annello del pincio con grandi quantitativi di sabbia. Chi vive lì vicino, aveva scritto, si sentiva agli arresti domiciliari per circa 15 giorni, in mezzo ad una grande confusione con le vie chiuse, la raccolta di rifiuti fatta con grande difficoltà e molto spesso tutte le attività di preparazione venivano svolte quando ancora non si era fatta l'alba e quindi chiasso, urla, polvere. Mi sembra molto strumentale questa polemica rispetto alla Fano dei Cesari perché io proprio nel comunicato dico personalmente, ribadisco personalmente, perché la mia idea di festa, la mia idea di eventi non si rifà alla Fano dei Cesari. Poi nel comunicato non scrivevo neanche un'altra cosa che ho molto a cuore invece, che non ho scritto proprio per non creare ulteriori dimensioni di polemica, che è quella come veniva vista la dimensione della donna nella Fano dei Cesari. Allora c'era questa esaltazione della virilità, della mascolinità e le donne erano solo delle gregarie, se non delle vestali, se non delle portatrici di qualcosa. Invece c'erano tutti questi maschi che apparivano in tutta la loro forza. Allora devo dire che questo è un altro aspetto che secondo me va curato in una forma diversa. Questo era il mio pensiero, non voleva creare nessun disagio, nessuna polemica inutile e strumentale assolutamente.